La stabilità finanziaria nell'area dell'euro ha beneficiato del miglioramento delle prospettive economiche ma l'aumento dei rischi geopolitici potrebbe comportare notevoli rischi al ribasso e quanto rileva la banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria. Le sorprese economiche favorevoli negli ultimi mesi hanno alimentato le aspettative di base degli investitori per i quali l'inflazione nell'area dell'euro raggiungerà l'obiettivo della BCE senza una profonda contrazione economica con una sorta di atterraggio morbido. Si riducono i rischi di recessione a breve termine e ci si attende un imminente ritorno a una crescita moderata ma i rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati secondo la BCE. Una delle cause principali è il rischio geopolitico. Se le tensioni dovessero aggravarsi ulteriormente potrebbero incidere sull'offerta di materie prime energetiche, alimentare l'inflazione e innescare conseguenze sui mercati finanziari.